Ciao, benvenuto a questo periodo di oggi, qui ti parlo ancora del principio veramente importante della scala blues, ti parlo dell'uso del 5 note blues o con l'aggiunta della nota che dà il colore alla scala blues che è il famoso tritono, la scala blues è praticamente gli semi di 5 note più il tritono, quindi 6 note che dà proprio quel colore, quel cromatismo particolare che rende il blues unico nel suo genere, infatti il blues è un genere che prende spunto dalla musica africana, prende spunto proprio dai ritmi africani e dall'uso della folie, l'uso proprio delle 5 note e unisce il tritono, prendendo esempio la musica classica appunto e in questo modo praticamente costituisce quella nota in più che appunto è il tritono che dà quel colore particolare che è blues, ora te la suono, ad esempio do, le note sono do, la terza perché è una scala minore, do, la seconda no, terza, terza bemonne, quindi do, re, mi bemonne, do, mi bemonne, do, fa, che è la quarta, la quinta, quindi do, mi bemonne, fa, mi bemonne, fa, son, la, si, la, 10 e do, quindi do, mi bemonne, fa, son, la, si, la, 10 e do, no, di esistono no, fa, sol, di esistwa, e do, questi sono minuti, la famosa notte cromatica questa vedi tritono è il fa diesis quindi do il premone fa fa diesis eccolo qui la nota cromatica fa diesis la diesis e do c'è un prossimo video